I corpi non hanno evidenti tracce di sangue, hanno delle lesioni che possono essere compatibili con quello che è un trascinamento e uno schiacciamento. Non stiamo tralasciando nulla, sicuramente per le lesioni che hanno i corpi e per quella che è la dinamica degli eventi potrebbe essere che siano state investite da un grosso mezzo agricolo. Grazie a tutti. Il venerdì mattina una giovane, una donna che non ha dato subito le sue generalità, ha chiamato il numero unico di emergenza 112 riferendo di trovarsi a Rogoredo in un campo di mais e di essere stata schiacciata da un mezzo agricolo, da un grosso trattore. La telefonata non era particolarmente chiara, la donna parlava italiano e arabo, tant'è che è stato necessario l'ausilio di un interprete per comprendere bene quello che stava riferendo. Da subito sono partite le attività di ricerca che hanno localizzato il telefono cellulare della donna, che poi però è risultato irraggiungibile nella zona di San Giuliano Milanese. E quindi l'aria è, ininterrottamente, dal momento in cui è stata ricevuta la telefonata, stata abbattuta con elicotteri del NEC e nucleoelicotteri carabinieri di Orelasserio del 118, volontari della protezione civile e vigili del fuoco. Questo ha permesso appunto di trovare ieri in tarda serata i corpi delle due giovani in un campo, in una zona limitrofa, quella dove agganciava il telefono cellulare della vittima al momento della telefonata al 112. Le donne sono state trovate su dei giacigli accidentali e intorno a loro erano presenti delle bottiglie di alcolici e altri effetti personali. I corpi non hanno evidenti tracce di lesioni, non hanno evidenti tracce di sangue, hanno delle lesioni che possono essere compatibili con quello che è un trascinamento e uno schiacciamento. Non stiamo tralasciando nulla, sicuramente per le lesioni che hanno i corpi e per quella che è la dinamica degli eventi potrebbe essere che siano state investite da un grosso mezzo agricolo. Quella mattina il campo è stato trattato appunto con degli insetticidi e per spargere questi insetticidi è stato utilizzato un trattore di grossissime dimensioni. Quella mattina il campo è stata trattato appunto con degli insetticidi e per spargere questi insetticidi e per spargere questi insetticidi. Grazie.